Dopo il caso Ripalta, piccolo comune che ha contribuito alla sperimentazione dell'app Io, ora molto popolare per la richiesta del bonus vacanze, prosegue la digitalizzazione dei comuni della zona, che possono fare affidamento su consorzio IT, come conferma il sindaco di Ripalta Cremasca. Fondamentale, ci segue, sono preparatissimi, abbiamo questa sinergia qui praticamente totale da cinque anni, da quando amministro il comune, abbiamo cominciato a lavorare insieme e tutti i servizi sono passati al digitale anche attraverso loro. Consorzio IT, società pubblica partecipata da 50 comuni del Cremasco, fornisce consulenza per la progettazione di infrastrutture a sostegno degli enti locali, anche perché soprattutto i piccoli comuni non dispongono di personale dedicato alla digitalizzazione. Un ruolo come una società pubblica che ha l'obiettivo proprio di agevolare, di accelerare questi supporti, dovrebbe essere un valore aggiunto. Alcuni comuni ci stanno contattando, in realtà anche al di fuori della provincia di Cremona, proprio per l'esperienza che abbiamo fatto prima con i comuni di Ripalta e poi per i contatti che abbiamo, chiedendo di velocizzare, perché poi grazie anche ora al bonus vacanze i cittadini stanno scaricando l'app, ma bisogna fare in modo che questo non sia uno scaffale vuoto. Il territorio cremasco, con il supporto della partecipata Consorzio IT e con Open Fiber, sta completando i lavori di stesura della fibra ottica, obiettivo importante per lo sviluppo dei nuovi servizi. Un ruolo di supporto tecnico che si sta rivelando una marcia in più rispetto ad altri territori. Anche il Comune di Cremona si è affidato a Consorzio IT per implementare il pagamento dell'Atari attraverso l'app Io. Tanti progetti che si scontrano con la difficoltà dei cittadini nel maneggiare app e speed. Per questo sono pronti anche corsi di alfabetizzazione. Abbiamo proposto ai comuni un prodotto, diciamo una soluzione di alfabetizzazione, si chiama Libertà Digitale. Saranno tre momenti, uno su prodotti più a livelli generali, quindi strumenti che possono utilizzare anche persone magari di una fascia d'età più avanzata come WhatsApp, come Telegram, come Meet per fare delle videoconferenze con i parenti che nel periodo Covid erano particolarmente utilizzati. Un secondo livello invece piattaforme abilitanti come Speed, C e Pago.pia e anche l'app Proprio Io. E infine un terzo livello dove andremo a mappare i servizi comunali e quindi informare anche i cittadini su quelli che sono i servizi che il proprio Comune mette a disposizione. Ma rassicuriamo i cittadini? Non è mai troppo tardi. Grazie. Grazie.